SIGLA Chissà perché abbiamo tenuto tutta questa roba. Non ti ricordi quest'aquilone? Ci piaceva farlo volare con mamma e papà. Beh, quei giorni sono passati da tempo. Che mi venga un colpo. Facevo volare un aquilone e si è impigliata in una tata. Mary. Poppins, sei tornata. Non sei invecchiata di un giorno. Davvero? Non si parla mai dell'età di una donna, Michael. Speravo di averti educato meglio. Cosa ti porta qui dopo tanto tempo? Come la prima volta sono venuta a occuparmi dei piccoli Banks. Di noi? Oh sì, anche di voi. Stiamo per perdere la casa. Mi è crollato il mondo addosso da quando vostra madre... Mi manca la mamma. Niente a cui tenevo ci ha lasciato Veramente È un bene che tu sia arrivata qui, Mary Poppins. Come hai fatto? Che cosa? Così hai riempito di sciocchezze la testa dei ragazzi. Hai dimenticato come ci si sente Ad essere piccoli. Tutto è possibile Persino l'impossibile Andiamo Che cosa? Che cosa? Faccio